Non si placano le polemiche attorno alla ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine che torna nelle ultime ore al centro della cronaca. Nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso i gnoti hanno provato a forzare una delle porte d'accesso allo stabile dell'ex moschea. Il loro tentativo però non è andato a buon fine per la presenza di qualcuno che ne ha disturbato la loro operazione. Nella giornata di venerdì, sopralluogo da parte dei carabinieri per normali controlli, al momento non risulta effettuata nessuna denuncia alle autorità competenti. Tra le ipotesi immediate per il futuro, quello di murare la porta d'ingresso per far desistere eventuali tentativi da parte di malintenzionati.